Se dovresti fare un confronto tra Eminem e la Dark Polo Gang Ma voi siete membre della gang o siete bufu? Siamo stacchi In Italia si sta diffondendo una moda Ci sono dei ragazzi che fanno trap rap Si chiamano Dark Polo Gang Voi conoscete? No Mi potete dare un parere sulla loro musica? Io qui ho un video Questa è una canzone loro Ci vedete? Sì sì Quindi secondo voi Cosa ne pensate? Vi piace o non vi piace? Ma non è un tipo di musica che mi attiri parla Il ritmo è carino Quindi voi siete membri della gang Ossia che possono piacervi Oppure siete bufu Che bufu significa che infama della gang Io sono per la libertà Ognuno si può sentire quello che gli pare E ognuno può dire quello che gli pare Ma voi siete bufu o membri della gang? Io sono 3.7 E secondo te? Perché questi hanno fatto così tanto successo? Perché hanno sfruttato l'occasione Se sei così tutto strano e particolare la gente ti chiede Se dovresti fare un confronto tra Eminem e Dark Polo Gang Diciamo Eminem Quello che racconta Eminem era la storia sua Fanno ride nel senso che non ti raccontano qualcosa che si arriva a vita Allora ragazzi Ma sentite ma voi siete dei membri della gang o siete bufu? Siamo membri della gang Se io devo fare un confronto E vi dico Eminem e Dark Polo Gang Voi che dire? Non capito Si fa la vita Pollo e cocaina nella fatella Chiamo a Doni Vieni a prendere Doni Tesoro Vieni a prendere D'acqua D'acqua Dark Gang Gangband Ciclub Solbit Press Sportswear Rmax Comfort Calvin Klein Is palms are sweaty, knees weak, arms are heavy There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti